Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere alcuni dei punti che le persone più ricche di questo pianeta hanno in comune tra di loro quando si tratta del loro modo di pensare ed agire. Sono dei consigli molto interessanti e pratici che vi aiuteranno ad avere successo in qualsiasi cosa voi vogliate fare. Cominciamo subito. Numero 1. Devi fallire per avere successo. Qualunque cosa voi vogliate fare o vogliate creare, siate certi del fatto che dovrete affrontare vari fallimenti prima di avere successo. Questi fallimenti sono il percorso verso il successo. Se volete raggiungere veramente il vostro obiettivo, con tutto il cuore, allora non vi arrenderete davanti alle sconfitte e continuerete a spingere. Numero 2. Fai tutto per soddisfare l'espressione migliore di te stesso come essere umano. Bisogna avere quell'impressione di aver dato tutto in questa vita, senza rimpianti, ed essere totalmente felice per quello che avete dato in questo mondo. Non c'è cosa peggiore che dire avrei potuto fare di più. L'obiettivo giornaliero deve essere proprio questo. Alla fine della giornata dovete essere in grado di dire, ho fatto del mio meglio. Se riuscite a dirlo ogni giorno, il successo sarà garantito. Numero 3. Sia amorevole. Puoi fare tutto e raggiungere tutto nella vita, puoi comprare tutto, tranne l'amore altrui. L'unico modo per farti amare dagli altri è quello di essere amorevole. Se quando sarete vecchi avrete molte persone che vi ameranno, allora sì che potrete dire che avete avuto veramente una vita di successo, a prescindere dall'ammontare di denaro che avete in banca. Numero 4. Assumersi i rischi. Questo vale specialmente nei momenti in cui trovate la vostra vocazione o quando pensate di aver trovato una grande opportunità. Non lasciatevela scappare per paura di fallire. Datevi da fare, impegnatevi al massimo e se lo fate prima o poi verrete pagati. Trova le benedizioni nascoste. Ogni persona affronta difficoltà o problemi vari, ma non bisogna concentrarsi su questi problemi perché se leggete le autobiografie delle persone più ricche del mondo, noterete che la grande svolta avviene sempre dopo un duro colpo. Cercate quindi di essere sempre fiduciosi e di aspettarvi benedizioni anche durante i momenti difficili. Numero 6. Muovetevi velocemente. Il tempo è più importante del denaro. Potete avere sempre più denaro ma mai più di 24 ore. Non lasciate scorrere il vostro tempo. Se avete un'idea e un piano d'azione, muovetevi velocemente. Cercate di fare tutto il più presto possibile e se lo fate anche il successo arriverà presto. Questi erano alcuni dei punti in comune che le persone più ricche del pianeta hanno tra di loro. Questo si nota quando analizziamo la crescita delle più grandi imprese del mondo e la carriera di persone che si sono arricchite in pochissimo tempo come Jeff Bezos, Jack Ma, Elon Musk, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!